Il filtro Motion Tracker in ShotKat. Bentornati ragazzi nel canale Veroeroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi vedremo questo meraviglioso filtro che porta ad un livello successivo il vostro video editing con ShotKat. Condividiamo subito il nostro desktop. Abbiamo il nostro programma di video editing preferito ShotKat, link in descrizione per il download. Allora ragazzi intanto bentrovati perché abbiamo fatto una piccola pausa estiva come sapete come avete visto sono stato una quindicina di giorni senza pubblicare video. Non ce l'ho preso una piccola pausa ma mi è servito per ovviamente mettere a punto nuovi progetti e sicuramente partirò con tanti nuovi e fantastici video. Primo fra tutti questo veramente molto 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 importante. Tra l'altro ragazzi questo periodo mi è servito un po' anche per guardarmi intorno e ho visto che qualcuno sta anche iniziando un po' a scopiazzare alcuni elementi del canale Veroeroe Academy. C'è ad esempio un canale straniero che ha iniziato a un po' a scopiazzare le miniature che faccio io. Praticamente sono uguali ma va bene così significa che comunque quello che sto facendo funziona. Quindi va bene tanto poi è il contenuto che ci differenzia. Quindi ragazzi filtro veramente incredibile perché porta ad un livello qualitativo successivo quindi superiore il nostro video editing. E si tratta del filtro Motion Tracker. Che cosa significa il filtro Motion Tracker? È un filtro, ve lo spiego in parole molto semplici come sempre, è un filtro che ci permette di tracciare un pixel o un gruppo di pixel, quindi di tracciare il movimento di questi pixel all'interno del video per animare altri oggetti o altri elementi all'interno del clip. Quindi cosa vuol dire? Se io ho ad esempio un gruppo di pixel bianchi che fa un movimento all'interno del video, questa sequenza di movimenti li posso riprodurre, li posso far fare lo stesso tipo di movimenti a un altro elemento che può essere un testo, può essere un altro video, può essere un altro filtro. Quindi vediamo in maniera veramente semplice come funziona questo elemento. Allora andiamo ovviamente qui sul nostro Add Files to Playlist al nostro elenco risorse. Allora intanto il filtro Motion Tracker ragazzi è, se avete una versione un po' datata di Shotcut fate l'aggiornamento perché è stato introdotto solamente dalla versione 23.5.14, quindi se andate a scaricare adesso l'ultima versione, io ho scaricato una delle ultime, non so se è proprio l'ultima, ma ho scaricato la 23.07.29, quindi è già tranquillamente funzionante. È una versione stabile e è all'interno questo filtro, la versione che per esempio utilizzavo precedentemente non aveva questo filtro Motion Tracker. Allora andiamo ad aggiungere, io ho aggiunto questi due video scaricati da Pixabay e abbiamo questo bel video, vedete, di questi due ragazzi che fanno questa bella gita in mountain bike su questa bella spiaggia. Allora andiamo a prendere, andiamo a mettere ovviamente il clip all'interno della nostra timeline, qui ero in fotogrammi chiave, vado in timeline, prendo e metto in timeline. Vado un po' spedito ragazzi perché do per scontato che sappiate già utilizzare, abbiate già le basi di Shotcut, se non avete le basi di Shotcut all'interno del canale trovate una playlist interamente dedicata a questo meraviglioso programma. Con tutti i video tra l'altro numerati, quindi potete fare praticamente un corso pressoché completo per avere tutte le basi. Quindi, quindi ho aggiunto il mio clip, allora vado a utilizzare, a prendere il filtro, quindi vado su filtri, clicco sul più e vado in Motion Tracker, potrei scrivere anche qui, ovviamente io l'avevo già messo tra i preferiti, Motion, Motion Tracker. Vedete che mi si apre qui il pannello delle opzioni del filtro Motion Tracker e vedete che abbiamo questi elementi. Qui mi è apparso, vedete abbiamo la nostra mappa interattiva con la zona dei pixel che io voglio andare a tracciare, quindi posso andarla a spostare e vedete che qui si sposta, vedete la regione del track si sposta a seconda di dove io posso, dove io vado a spostare la mia regione. Posso per comodità, un trucchetto che vi conviene fare, andare a selezionare lo zoom, quindi se io faccio uno zoom ad esempio 100%, vedete che vado ad ingrandire e posso, vedete, spostare in maniera tale da essere più preciso con la mia regione. Voglio andare a indicare, a dire al filtro Motion Tracker, vammi a tracciare i movimenti di questo oggetto e il primo oggetto che voglio andare a tracciare è questa bici, il primo soggetto diciamo che ha la felpa bianca, quindi ovviamente lo vado a cerchiare, non a cerchiare, lo vado a inquadrare con questo quadrato in maniera tale che mi rilevi, mi analizzi questo movimento, il movimento di questa bici. Una volta che ho selezionato, potevo ovviamente spostarmi anche con la posizione e la dimensione manualmente, ma è molto più comodo così, vedete che se io clicco su Show Preview mi toglie e mi evidenzia la regione verde intorno, che è quella di anteprima, lo lascio, ovviamente posso andare a cambiare anche il colore, posso mettere il rosso, ad esempio l'arancione, vedete che mi ha cambiato colore, lo lascio in verde, lo lascio in verde, ok. E ora faccio analizza. Una volta che clicco su analizza, lui, vedete qui parte una progressione in attività, vedete molto veloce, e mi sta tracciando all'interno della clip il movimento di questo oggetto che io ho contorniato. Quindi una volta che ha finito, ci vuole qualche secondo, andremo a vedere se, andremo a fare un play sul video e vedere se mi ha tracciato in maniera corretta. Torno qui al zoom adattivo, quindi che mi si adatta esattamente alla finestra, e clicco su Play. Vedete? Vedete che la zona, la regione, vedete, verde, che è quella del motion tracker che io ho selezionato, vedete che mi segue perfettamente l'oggetto che io ho indicato. Quindi molto, molto bene, vedete, poi me lo segue perfettamente. Ora posso andare a, avendo questa analisi, questo tracking, posso andare a dire a un altro oggetto, fammi, esegui, posso andargli a dire, seguimi esattamente questo tipo di movimento. Quindi torno all'inizio del clip e devo andare a inserire un oggetto, voglio andare a inserire un oggetto che mi segua questo altro oggetto. Quindi vado ad inserire un nuovo filtro. Allora non tutti i filtri possono seguire il tracking del motion tracker. C'è un elenco ben preciso che è questo, di filtri che possono essere, possono andare a interfacciarsi con il motion tracker e sono, vedete, il perno d'angolo, il ritaglio. I più importanti sono sicuramente dimensione, posizione e rotazione e testo semplice e ricco. Poi potete ovviamente, quando avete un po' di esperienza, dare a provare anche gli altri. Noi oggi proveremo il testo semplice e la dimensione, posizione e rotazione. Quindi andiamo ad inserire il testo, quindi filtri, andiamo ad inserire, quindi clicchiamo sul più e scriviamo testo e andremo a selezionare testo semplice. In questo caso andiamo a scrivere, ad esempio, Marco. Marco. E andiamo a dargli una dimensione, quindi in questo caso prendiamo proprio il, vedete, le maniglie della dimensione, andiamo a dargli una dimensione che ci può essere di aiuto. Direi così ci siamo. Possiamo anche in questo caso andare a fare un 100% e andare a spostarci in maniera di, in maniera da essere più precisi. Quindi prendiamo e andiamo qua. E vedete che la mettiamo esattamente sopra alla nostra bicicletta. Torniamo al nostro zoom adattivo. E come possiamo fare interfacciare quindi il filtro semplice, scusate, il filtro testo semplice con il filtro Motion Tracker? È molto semplice. Vedete che qui c'è questo tasto Load Keyframes from Motion Tracker. Se noi clicchiamo qui, lui andrà a pescare, andrà ad adattare il tracking del Motion Tracker direttamente al filtro testo, direttamente al nostro testo. Come facciamo per vedere se viene attuato in maniera corretta? Clicchiamo su fotogrammi chiave o keyframe, vedete che è vuoto. Se noi andiamo a cliccare qui, ad un certo punto ci apparirà sotto tutta la sequenza di keyframe che equivalgono ai movimenti della nostra bicicletta. Quindi andiamo a cliccare su Load Keyframe. Qui Motion Tracker. Potevamo dargli un nome, io non ho selezionato nessun nome. E quindi sarà di conseguenza il tracker 1. Lui li elenca in maniera successiva. Come aggiustamento io lascerei il Relative Position. Sono tutti, questi sono tutti algoritmi che vi possono cambiare il movimento del tracciamento, ma io lascerei il Relative Position, cioè la posizione relativa in maniera da fare, più semplice. Poi voi potete provare quello che più si addice a seconda del progetto che state elaborando. E clicchiamo From Start, non da posizione attuale, perché se noi ci troviamo a metà del video e facciamo da posizione attuale, ci analizzerà, ci adatterà il tracciamento solamente da quella posizione in poi, ma noi vogliamo dall'inizio. Applica. E vedete qua sotto che appariranno dopo qualche secondo tutti i keyframe. Applica. E vedete che veramente in pochi secondi ci ha inserito tutti i keyframe del movimento della bicicletta. Ora siamo all'inizio, vedete, del nostro clip e andiamo, proviamo ad andare a vedere cosa ha combinato il nostro Motion Tracker. Clicchiamo su Play. E vedete che il testo segue esattamente la nostra bicicletta, quindi il movimento della bici è uguale al movimento del nostro testo. Abbiamo adattato il movimento della bike al testo, quindi veramente perfetto. Bene, ovviamente possiamo inserire più Motion Tracker, cioè più oggetti. Ad esempio potremmo scrivere Luca sopra alla seconda bici. In questo caso però dovremmo inserire un altro Motion Tracker, quindi così un secondo Motion Tracker, perché il primo sarà già tracciato e avrà già la sua applicazione in testo semplice. Quindi Motion Tracker. Andremo di nuovo a selezionare la zona. Quindi vi consiglio in questo caso di andare per maggiore precisione a fare uno zoom del 200% della nostra anteprima in maniera tale da andare a selezionare la zona precisa da analizzare, quindi la seconda bici. Siate il più precisi possibile. Perché? Perché se facciamo uno zoom adattivo e togliamo, vedete che le due bici si sovrappongono a un certo punto. Vedete, quindi se voi non siete esattamente precisi, precisi, il Motion Tracker della prima bici passerà alla seconda, ovviamente vanificando il vostro lavoro. Quindi è molto importante essere veramente precisi e dovete fare, come vi dicevo, un Motion Tracker per ogni tracciamento di movimenti. Questa è la prima applicazione. Andiamo a vedere invece una seconda applicazione. Quindi togliamo questo clip e andiamo a prendere invece, con il nostro elenco di riproduzione, andiamo a prendere il secondo video. C'è una nuova applicazione per quanto riguarda il Motion Tracker ed è quello di andare a tracciare il movimento di un oggetto e far seguire l'inquadratura quel movimento. Quindi non più un oggetto che segue quella mappatura, ma la posizione, l'inquadratura della nostra immagine che segue quella traccia. Quindi andiamo a prendere in questo caso il nostro secondo video, lo andiamo ad aggiungere alla nostra timeline. Quindi andiamo ad aggiungere qua. Andiamo a prendere di nuovo il nostro filtro. Andiamo su filtri, andiamo su Motion Tracker. Andiamo a dargli il nome, in questo caso palla, perché vogliamo andare a tracciare la nostra palla. Quindi andiamo su uno zoom del 100%, va bene. Andiamo a tracciare, quindi andiamo a prendere la nostra palla. La mettiamo all'interno del nostro rettangolo verde. Perfetto. E andiamo a cliccare su Analizza. Una volta che è arrivato al 100%, torniamo sul zoom adattivo. Andiamo a vedere se ha seguito esattamente la palla. Clicchiamo su Play. Vedete che il riquadro verde segue perfettamente la palla. Diciamo quasi perfettamente. Bene, ora cosa facciamo? Dobbiamo andare a applicare questa traccia, questa analisi, ad un nuovo filtro che non sarà più testo, ma sarà in questo caso dimensione, posizione e rotazione. Quindi andiamo a selezionare questo filtro e andiamo anche in questo caso, vedete, a cliccare sul tasto Load Keyframes from Motion Tracker. Quindi ci spostiamo su fotogrammi chiave, in maniera da avere la situazione sotto controllo. Andiamo a vedere se appaiono i fotogrammi chiave. Clicchiamo, come Motion Tracker clicchiamo su palla, aggiustamento, posizione relativa, va bene. Dall'inizio clicchiamo su Applica. E vedete che ci sono apparsi esattamente i keyframe. Bene, andiamo a vedere cosa è successo. Clicchiamo su Play. Ok, vedete che la nostra immagine si sposta esattamente del movimento della palla, mantenendo praticamente la palla nella stessa posizione. In questo caso, quindi, dobbiamo adattare, perché vedete che va fuori, vedete che l'immagine non è abbastanza grande e quindi appaiono queste bande nere. Dovremo andare ad aumentare, quindi di nuovo un altro filtro dimensione, posizione e rotazione sul clip e dobbiamo andare a fare uno zoom, in questo caso, magari così. Adesso io vado veloce per farvi capire il concetto. E andiamo a vedere se, vedete che le bande nere appaiono ancora, quindi ancora un po' di più. Poi, chiaramente, a seconda del progetto dovete fare le vostre, i vostri correttivi. Vedete che c'è ancora, quindi vado ancora un po' di più. Andiamo a vedere. Vedete che adesso le bande nere non si vedono più, abbiamo un'immagine più zoomata in avanti, però vedete che la nostra immagine segue esattamente il movimento della palla, vedete? Poi, chiaramente, dovete andare ad agire a seconda del progetto che avete, mi era tale che si veda tutta l'immagine. Io vi ho fatto solamente capire la tipologia di lavoro da fare con il motion tracker e le varie applicazioni. Quindi questo, ragazzi, vi permette di passare ad un livello successivo per quanto riguarda il vostro video editing, perché possiamo tracciare il movimento di determinati oggetti all'interno della clip e far fare lo stesso tipo di movimento ad altri elementi all'interno dello stesso clip, che siano testi, che siano dimensioni del clip o che siano altri tipi di filtri. Quindi, veramente, porta ad un livello successivo il vostro video editing. Bene, ragazzi, io vi do ancora il bentrovati sul canale Veroeroe Academy dopo la pausa estiva. Arriveranno tanti altri video veramente molto, molto interessanti. Quindi state collegati ed iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Venitemi a trovare sul mio profilo Instagram, Veroe underscoreeroe underscore academy. E noi, ragazzi, come sempre, ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.